Temptation Island, Martina sempre più vicina a Carlo. Raúl prima spacca una sedia e poi piange. Nella quinta puntata di Temptation Island, arriva una svolta per la coppia formata da Raúl e Martina. Per il fidanzato non sono stati giorni facili nel villaggio dei fidanzati. Il ragazzo ha visto la sua fidanzata sempre più vicina al single Carlo, con il quale oltre a esserci un'intesa fisica, sembra esserci un'affinità mentale. Dall'altra parte, anche Martina riceve dei video di Raúl che si lascia coccolare dalla tentatrice siriana. Immagini che vengono minimizzate da Martina, la quale però non sembra essere totalmente indifferente. Queste coccole non le concepisco, non le accetto e non le perdono. Lo conosco, so che non è vero. Mi dispiace che stia facendo queste cose per farmi ingelosire, ma lo vedo, ha lo sguardo assente. La ragazza, ancora una volta, dubita della pochezza dei contenuti nelle conversazioni tra Raúl e Siriana. Lui ha delle carenze, dice, sfogandosi con le altre ragazze. Si sta solo buttando su una ragazza che ora gli sta dando affetto. Io voglio continuare a fare il mio percorso, che è sicuramente più vero del suo. È il percorso di Martina, prosegue al fianco di Carlo, filmati che mandano Raúl su tutte le furie. Martina, infatti, sostiene di avere argomenti molto più profondi da affrontare con Carlo, di quelli che vive nella quotidianità con il proprio compagno. Dice che con me parla solo di TikTok, ma se lei sta sempre al telefono... Raúl va su tutte le furie e spacca una sedia, facendosi male anche a una mano per la rabbia. Rabbia che si trasforma in lacrime durante il falò dei fidanzati, in cui Raúl spiega di aver trovato nuove consapevolezze. Mi sono reso conto di non essere io sbagliato, ma è lei a esserlo. Io non avrei queste reazioni così brusche se lei non avesse un comportamento così sbagliato nei miei confronti, dice piangendo. Cosa ne pensate? Lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie. Grazie. Grazie.